in una città in cui il cielo versa lacrime di sangue è mia figlia il cadavere di una ragazza sua figlia si interessava di politica sta per far piangere troppe persone consigliere, c'è qui la polizia perché quando tutti sono sospettati noi non siamo una famiglia non volevo farle del male nessuno è davvero innocente lo so dovrei stamattina perché non mi dici la verità? l'ultima volta che l'hanno vista è stato venerdì al ballo che cosa c'è? ma stai a che sta succedendo quando insegui la verità dov'era la notte dell'omicidio di Rosie Larson? preparati a perdere tutto quello che hai dov'è mio figlio? esci dal mio ufficio perché non mi hai detto dov'era quella notte? scopri chi è stato e chiuditi la bocca in prima assoluta The Killing è stato un po' a che l'hanno vista è stato venerdì Grazie a tutti